Vi ritrovate con questo nuovo speciale di Classi NBC che dedichiamo oggi a Tender Capital e all'ultima fatica che questa azienda ha realizzato a Venezia. È con noi il presidente di Tender Capital, Moreno Zani, bentrovato. Grazie dell'invito e buongiorno ai tre spettatori. Allora, voi sono tanti anni che vi occupate di un progetto che si chiama Tender to Art, ovvero una sorta di incubatore di progetti d'arte declinati a 360 gradi. Di che si tratta? Tender to Art è un incubatore che abbiamo fatto partire nel 2012 nell'idea di trasmettere il DNA di Tender Capital attraverso l'arte. L'arte nelle sue più svariate forme, dall'arte pittorica alla fotografia al cinema. Dal 2012 ad oggi abbiamo fatto diversi progetti, in alcuni anni anche più progetti, che ci hanno portato da presentare nuovi, giovani talenti, a lavorare con grandi scrittori come Romagnoli, La Gamberale, ad attrici come Valeria Golino e sino all'ultimo con il progetto realizzato con Marta Fainz e Salma Eppino. Un cambio di passo incredibile che vi ha visto protagonisti nel teatrino di Palazzo Fainz qualche settimana fa a Venezia, dove è stato presentato un... non è un film, è un'opera d'arte, ma è un'opera d'arte video, è un'opera d'arte completamente innovativa. La regista è... ma è l'artista, è Marta Fainz, e la protagonista è niente di meno Salma Hayek. Com'è stato possibile arrivare a questi due personaggi straordinari? Beh, allora diciamo che è stato, come dire, un lungo viaggio. È stato un viaggio iniziato circa un anno e mezzo fa, quando io incontrai a Londra Marta Fainz, e vidi per la prima volta la sua precedente opera, Nativity. Un'opera che mi aveva sinceramente catturato, particolare, mistica. Quando lei mi parlò del nuovo progetto a cui stava pensando all'epoca, neanche ci stava lavorando, non esitai molto nel dirle che mi avrebbe fatto veramente piacere condividere questo viaggio con lei. Siamo partiti da lì e poi abbiamo costruito, sempre nello spirito di Tender to Art, lasciando la massima libertà espressiva all'artista. Abbiamo costruito questo progetto a cui poi si è aggiunta Salma Hayek Pino, nel senso che gli abbiamo presentato la nostra idea e lei è rimasta entusiasta, l'ha condivisa ed ha un percorso con noi, questo lungo cammino che ci ha portato a Venezia durante il Festival del Cinema, dove abbiamo presentato Yugen. Yugen che cosa significa? Yugen è una parola giapponese che dà l'idea della grande consapevolezza dell'universo e contemporaneamente del suo mistero, che è quello che poi nell'opera si vede e si trasmette. Una presentazione incredibile durante il Festival del Cinema di Venezia, con degli ospiti illustri e il moderatore che tutti sognavano, perché forse chi non si occupa d'arte non lo conosce, ma Hans Ulrich Obrist oramai è a livello mondiale considerato il curatore più importante del mondo e proprio lui ha introdotto questo progetto. Hans Obrist ci ha fatto il grande piacere, il grande onore di condividere con noi la parte finale del progetto, lui ha seguito un po' la realizzazione, si è entusiasmato e su richiesta mia e di Marta ha accettato di moderare la conferenza stampa di presentazione di Yugen a Venezia e di presentare l'opera. Devo dire che è stato molto bello conoscerlo e lavorare con lui e sentire anche quali sono, quali erano le sue opinioni, le sue idee su questa nuova forma d'arte, questi film painting o questi tipinti infiniti. Questo film painting, questa presentazione non finisce qui però, noi stavamo parlando prima di questa intervista e mi stavi raccontando che in realtà ci sono in programma delle presentazioni future. Sì, in realtà siamo all'inizio, siamo all'inizio della vita di Yugen, nel senso che Yugen è stato presentato a Venezia, è rimasto poi due giorni in visione libera a chiunque volesse vederlo nel teatrino di Palazzo Grassi e poi adesso inizierà il suo lungo cammino. Dunque inizieremo il 5 di ottobre alla Serpentine Galleries a Londra dove ci sarà l'unveiling londinese e poi con tutta probabilità l'opera verrà presentata a New York e poi a Los Angeles tra la fine del 2018 e poi i primi mesi del 2019. Le ho fatti una domanda, siccome questi sono dei progetti molto impegnativi sia dal punto di vista economico che anche di impegno e di fatica perché un'azienda come la vostra, leader nell'asset management, si dedica all'arte in tutte le sue forme? Sì, una bella domanda. Allora, ci dedichiamo all'arte. Perché ci dedichiamo all'arte? Perché è una passione. È una passione personale che ho trasmesso poi nel DNA della società che ho fondato e poi perché comunque secondo me l'arte è anche un modo, un mezzo per restituire qualcosa alla collettività. La società deve essere costruita da persone che ricevono ma anche danno. Dunque secondo me è anche un modo intelligente di utilizzare parte delle proprie disponibilità. Io ringrazio moltissimo Moreno Zani, presidente di Tender Capital, che è venuto a trovarci. Abbiamo potuto vedere qualche immagine di questa straordinaria presentazione, di quest'opera pittorica video di Martha Fiennes presentata a Venezia e promossa da Tender Capital con protagonista Salma Hayek. Un'opera che ha in programma un lungo viaggio quindi se tenete d'occhio il sito di Tender Capital probabilmente sarete in grado di essere aggiornati su tutte le novità. In bocca al lupo per i nuovi progetti. Grazie a voi per l'ospitalità e per averci permesso di spiegare il progetto. Arrivederci.